Presentato il 14% dei progetti per i più dei 1900 edifici lesionati, per il 72% con danni gravi. In un'assemblea con i cittadini, il sindaco di Camerino, Sborgia, fa il punto. 22 sono i cantieri aperti in tre mesi. Sono passati quasi tre anni dalle scosse di fine ottobre. 2.242 sono le persone ancora in autonoma sistemazione, di cui 487 studenti. 47 persone sono alloggiate negli alberghi, 20 abitano negli appartamenti ERAP consegnati. Più di 630 invece vivono da tempo nelle soluzioni abitative di emergenza. Per quanto riguarda il centro storico, dopo la riduzione della perimetrazione, l'obiettivo è procedere con le messe in sicurezza per aprire le vie e restituire il cuore storico del comune ai suoi abitanti. La possibilità che le persone possano ritornare all'interno e cominciare a percorrere quelle strade dà già il senso di una possibilità di rientro, dà già il senso di una riappropriazione della città. La scelta di ridurre lo strumento delle perimetrazioni è stata quella di far sì che i lavori di ristrutturazione delle abitazioni iniziasse il più velocemente possibile. La ricostruzione non può essere solo una ricostruzione di tipo fisico. Corriamo il rischio di avere una città nuova ma purtroppo se non si creano le condizioni perché qui ci sia la possibilità di vivere, lavorare e quindi mantenere i servizi, l'ospedale, la scuola, è chiaro che il processo di ricostruzione può servire a ben poco. Avremo una città ricostruita ma sostanzialmente vuota.